Scusate? Ma questa è Garam? Ehi, bentornati. Sinceramente non mi aspettavo di fare una reaction oggi. Dopo le mille notizie, tra cui anche voci sulla YG, sugli artisti della YG, eccetera, eccetera, che sono uscite negli ultimi due-tre giorni, ecco, il teaser poster sul nuovo girl group che abbiamo scoperto che sono sette membri, mi ha un attimo spiazzata, soprattutto perché è uscito tipo ieri e c'era la data di oggi, quindi oggi sarebbe uscito qualcosa. Ma mi immaginavo tipo delle foto, qualcosa di molto ma molto generico, non di certo tipo un video di presentazione, che poi non so se questo sarà un video di presentazione, quindi vediamo. Vi ricordo comunque di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, se vi sentite espansivi un bel commentino. Tra l'altro la scritta Next Movement, non so se si riferisca magari al nome del gruppo, non so se si riferisca a tipo una nuova fase per la YG, a una nuova era, a qualcosa del genere, anche perché sono abbastanza sicura, ma potrei sbagliarmi, che il gruppo si chiamerà Baby Monster. E se vi ricordate, nelle tre cose che potresti non sapere sulle Blackpink, quel nome era già tra le possibili scelte per il nome delle Blackpink, cioè le Blackpink avrebbero già potuto chiamarsi al tempo Baby Monster, semplicemente lo hanno riciclato per il loro nuovo gruppo, perché tanto avevano registrato il marchio per i diritti del nome, e allora hanno deciso di non buttare i soldi. Però non sono sicura, ora vedremo. Senti già la musichina Badass, me lo immaginavo dalla YG. Finora, nella storia della YG, non ha mai debuttato un gruppo tranquillo, cutie, eccetera, eccetera. Sono sempre stati super Badass, almeno per quanto riguarda le ragazze, ma in realtà anche per i ragazzi. Sentite, c'è molto il suono anni 90. Ok, allora, le ragazze mi sa che si vedono molto velocemente. E poi tra l'altro hanno tutte i capelli lunghi, e mi sa scuri, tranne una, questa qua, che ha i capelli corti, ok. Per ora tra queste non mi sembra di aver visto nessuna, nemmeno in My Teenage Girl. Questa qua non so perché mi ricorda un pochino Doha delle Fanatics. Scusate? Ma questa è Garam? No, raga. No, non è Garam, no. Smettete di tirarla in mezzo a tutto. Vi pare che è appena uscita dalla Hybe, e ora la facciano ridebuttare nella YG quando ancora c'è gente che crede che lei sia colpevole e ancora gente che la odia emotivatamente anche se lei a loro non ha fatto niente. Vi pare? Cioè, ragionate un attimino. Ho sentito anche dire che ci sarebbe stata Ginny in questo nuovo gruppo che riconoscevano la silhouette nonostante il body type di Ginny non ci fosse tra nessuna dei membri. Raga, calma, calma. Cercate di togliervi tutte queste illusioni e cercate di essere un attimino più realistici. Nel K-pop in generale se può succedere qualcosa di bello o può succedere qualcosa di brutto, succederà qualcosa di brutto. Quindi proprio togliete tutte le possibilità buone che succeda qualcosa di buono. Quando uno viene cacciato da un gruppo normalmente è finita. Soltanto per Ciù sta avvenendo il miracolo e sono contentissima della cosa, però si vede già dall'inizio che il miracolo per lei sta avvenendo. Scusate, lo so, sta finendo l'anno, dovrei essere più buona probabilmente, ma... Anno prossimo sarò più buona, promesso. Allora, sicuramente sembrano tutte bellissime, sembrano tutte modelle a vedere così. Sembrano anche molto giovani, soprattutto lei che mi sa che è quella ragazza che avevo detto che sembra Doha. Ok, lei è un altro membro. Questa è super badass. Questa già potrebbe piacermi. Qui abbiamo la conferma che è bionda. Raga, ma che cute! È super... Raga, allora, ci sono alcune di loro che sono super cute. Secondo voi quanti anni hanno, più o meno? Perché lei, secondo me, potrebbe averne tranquillamente 16 e pure lei potrebbe averne 15-16. Solo che la YG solitamente non fa debuttare, pure lei è piccolina piccolina. La YG però non fa debuttare i suoi girl group a un'età troppo giovane. Mi sembrava che... Oddio, no. Se ci penso, Minji ha debuttato molto giovane. Quindi potrebbe essere un pochino un passo indietro. No, aspettate. Need the translation, ok. Think of them of baby that have genes of YG. Pensate a loro come baby, come bambine che hanno i geni della YG. Quindi baby, baby, baby monster. Ora, riapriamo un attimo la parentesi. Secondo voi, chi di loro avrebbe dovuto avere il body type di Garam o di Ginny? Nessuna. Cioè, hanno proprio un fisico diverso. Baby monster! Raga, lo dico da quanto? Non c'è assolutamente dubbio di quanto le loro capacità siano incredibili. Sì, però se ci pensate, questo gruppo è stato formato veramente in niente. È da nemmeno un anno che si sono formate nel training. Oh, amore! Sukhyun! Sono veramente brave nelle espressioni facciali? Ah, questa dicevate che è Garam! È vero, raga, ci somiglia a un botto! Non è, ma ci somiglia a un botto! Ok, allora, vi chiedo scusa, in questo caso, sì. Cioè, capisco che possa... Alvi, vieni a vedere? Sì, ma per meno. Cioè, ci assomiglia... Ricorda. Ricorda, ricorda, nei capelli lunghi e negli occhi, ma i nasi sono diversissimi, raga. Stavolta ve la do mezza buona, però già di partenza non dovevate nemmeno pensare che potesse essere nel gruppo della YG. Quindi, per questo vi ritolgo il punto. Lei mi piace tantissimo, raga. Lei, però, lei è... Per il momento è quella che sta catturando di più la mia attenzione. Non so se è perché è bionda, ha i capelli un po' più corti, ma è quella che vedo un po' più badass. Infatti dicono che hanno grandi capacità nelle loro espressioni e nei gesti e che riescono davvero a catturare l'attenzione della gente. E questo ci credo, perché la YG è bravissima, è fenomenale nel formare l'attitude o comunque nel scegliere dei soggetti che abbiano un sacco di attitude e che ti sappiano veramente stendere soltanto facendoti un minimo gesto o toccandosi un capello. Cioè, questo è veramente uno dei pregi della YG. Un po' meno quello della formazione a livello di canto, perché la YG finora ha sempre formato molto male i suoi artisti dal punto di vista canoro, nel senso che tanti artisti hanno tantissimo potenziale, ma non viene sviluppato bene, non viene approfondito bene quel potenziale e in tantissimi casi rimane quello che era tipo in partenza. Poi è chiaro, se uno ha un punto di partenza che è elevatissimo, si nota anche poco la cosa. Guardate come le stanno pompando! Non ci sono tanti talenti così in giro al loro livello. Chissà se ci saranno anche le Blackpink a parlare bene dei nuovi membri. Ok, credo che siano il tipo di cantanti che sono difficili da trovare in Corea, quindi potrebbero avere voci veramente interessanti. Magari delle voci basse, che è una cosa che è un pochino più rara. Ok, Baby Monster scritto tutto attaccato quindi o staccato, non mi ricordo più. Sto cercando di capire se tra loro ci sia anche Hyunhee che era una ragazza che ha partecipato a My Teenage Girl che faceva parte della YG ma sembrerebbe che abbia lasciato la YG subito dopo il programma. Non mi sembra di vederla. Comunque raga, sono bellissime. Sono molto determinate, dicono. Si vede dagli occhi. Ecco la Lisa. Addirittura! Con calma! Da lì sembra quasi che si siano anche allenate con Lisa. Questo non sarà mai successo nella vita. Avranno fatto quella clip e poi non avranno mai più visto Lisa in tutto quest'anno. Fidatevi. Però è carina la cosa del vedere gli altri artisti che le promuovono e che stanno cercando di pomparle, supportarle. E Lisa ci dice che tutti e sette membri stanno bene insieme. Ci posso credere, ma allo stesso tempo non ci credo così tanto. Magari a livello visivo, sì, però a livello di coesione mi sembra veramente strano in così poco che abbiano così tanto feeling. Però può essere, eh. Vedete che bellina che è Jenny qua. Questo è stato girato quest'estate perché quest'estate Jenny aveva i capelli arancioni. Ricordatevi. They're really good overall. Sono davvero brave a 360 gradi. E non ha detto più niente. La regina si è espressa semplicemente con una frase e questo basta. Ok, qua parla di valutazioni che sono avvenute in quattro anni. In realtà sono poche o non ci sono più treni che sono lì da quattro anni. Quindi è un po' una frase campata per aria. Sì, ci hanno messo quattro anni a scegliere i soggetti da mettere alla fine in questo gruppo. Però secondo me ci hanno messo l'ultimo anno in realtà per formare questo gruppo perché tutti i membri che c'erano prima nella maggior parte dei casi sono andati via. A meno che non siano tornati e non lo sappiamo. Però, oh. Spero davvero che diventino le star che colpiscono il mondo. Raga, io ho già una che mi ha conquistato. Lo sapete. Coming soon. Non sappiamo quando. Ah no, Baby Monster staccato, ok. Devo dire che in realtà non avevo così tanto hype per questo gruppo perché nell'ultimo anno sono usciti talmente tanti girl group con così tanto potenziale con così tanto fascino così tanto carisma tanta personalità eccetera eccetera che sinceramente non sentivo la mancanza di un altro girl group. Mi aspettavo il debutto delle Baby Monster quest'anno perché effettivamente era stato così annunciato e invece la YG ha deciso di rimandare il debutto del suo primo girl group di quarta generazione se ci pensate sta facendo un girl group per ogni generazione infatti più o meno stanno durando sette anni speriamo di no per le Blackpink speriamo che durino di più anche se magari vanno in un'altra agenzia chissà questa scelta potrebbe avere due spiegazioni uno che appunto non facevano in tempo a creare un gruppo che avesse un senso e sarebbe stato stupido far debuttare un gruppo che non era preparato come vi ho detto anche se hanno detto che ci hanno messo quattro anni per trovare le ragazze in realtà il gruppo lo hanno formato negli ultimi mesi l'altro motivo per cui credo che abbiano rimandato questo debutto al 2023 è molto semplice hanno lasciato che i nuovi girl group quelli che hanno debuttato nell'ultimo anno si scannassero tra di loro infatti il 2022 è stato un continuo di nuovi girl group uno più forte dell'altro che comunque in un certo senso si andavano a pestare i piedi se le Baby Monster avessero debuttato nel 2022 probabilmente il loro debutto sarebbe stato meno di impatto debuttando nel 2023 genialata se ci pensate bene il debutto più atteso per il 2023 qual è? top scelta a livello di marketing brava YG non ho idea di quanti contenuti usciranno su questo nuovo gruppo non ho idea di quanto frequentemente usciranno non ho idea nemmeno di quando debutteranno probabilmente credo che debutteranno oddio se debutteranno magari ad agosto dato che è una pratica così comune per la YG far debuttare il loro girl group ad agosto però potrebbe anche essere che a questo giro cambino dato che non sono più quattro membri ma sono sette membri chissà fatemi sapere cosa ne pensate quali sono stati i vostri pensieri come avete reagito se anche voi avete scambiato quella trainee per Garam oppure se qualcuno di voi si aspettava di vedere davvero Ginny o Garam nel gruppo raga spero che questo video vi sia piaciuto vi auguro un buon anno e ci vediamo nel prossimo video ciao ciao